Aumentate le tariffe all'autosilo di via Uguadri a Como, ora tocca i parcheggi a raso della città. La rivoluzione della sosta targata Alessandro Rapinese procede come data bella di marcia e dentro la fine del mese di aprile dovrebbe essere pienamente a regime. Da oggi hanno preso il via i lavori gestiti da Comosserovizi Urbani per modificare la segnaletica e aggiornare i parcometri in base ai nuovi prezzi. Per il lavoro di CSU è stato istituito il divieto di sosta nei parcheggi per i quali è prevista anche la modifica della segnaletica orizzontale e in particolare la modifica delle linee da bianche a blu e viceversa. Per le connessioni meteo in realtà gli interventi in mattinata non erano ancora stati avviati ma è comunque in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata che resterà attivo fino al termine delle operazioni. Le nuove tariffe entreranno in vigore progressivamente con l'aggiornamento dei parcometri e un intervento affidato a CSU. Entro il 30 aprile, ordinanza alla mano, il piano dovrebbe essere a regime ma i tempi potrebbero anche essere più brevi. La città, è noto, verrà suddivisa in zone verde, azzurra, blu, arancione e rossa. Le aree della sosta cittadina cambiano a seconda del flusso turistico. Si parte dalla zona azzurra con 50 centesimi la prima ora e un euro le successive fino alla rossa dove la sosta costa 2 euro l'ora. La zona verde sarà quella che manterrà invece la possibilità di una tariffa giornaliera che viene comunque portata a 5 euro per 11 ore.